Anticipazioni Endless Love. Quello che scoprirai in queste puntate ti lascerà senza parole. Nella puntata di sabato, Nian rivela alla polizia che Zeynep è la responsabile della morte di suo fratello e si distacca da Kemal, accusandolo di averle tenuto nascosto ciò che aveva scoperto dopo aver guardato il video. Dopo, Nian si confronta con suo marito, il quale nega di avere qualsiasi coinvolgimento nell'omicidio di Ozan e nella fuga di Zeynep. Convinto che il loro matrimonio sia ormai compromesso, promette a Nian di rintracciare Zeynep. Zeynep e Kemal sono sconvolti dopo che lei ha ricevuto un breve video che riprende Zeynep, un anno prima, all'interno di una stanza d'ospedale, intenta a soffocare suo marito Ozan con un cuscino. Per Nian il video incastra la sorella di Kemal senza possibilità di scampo. Ma Ayan e Kemal non possono fare a meno di sollevare alcuni dubbi. Anzitutto perché il video è così breve. E poi, se Zeynep ha soffocato Ozan, chi è stato poi ad impiccarlo? E soprattutto, chi ha piazzato una telecamera nascosta in una camera d'ospedale e a che scopo? Prima di continuare se vorresti ricevere in anteprima le nuove anticipazioni di Endless Love, scrivi sì nei commenti. Riprendiamo. Zeynep potrebbe risolvere alcuni dubbi, ma risulta scomparsa. È infatti nascosta in una casa procurata da Asu, ma anche Emir si offre di aiutare la sua ex amante, e tutti sanno che nessun cosquoglu fa un favore senza avere in mente uno scopo ben preciso. Mentre Nihan, dopo aver ricevuto la lettera, va a casa di Zeynep e la aggredisce, Kemal va all'ospedale a farsi curare il colpo ricevuto, dopo aver avuto un giramento di testa che Jilii ha quasi comportato un incidente. Durante la colluttazione tra Nihan e Zeynep, quest'ultima ha un'emorragia e implora Nihan di non farle perdere il bambino. Nihan sconvolta alla porta in ospedale, dove si imbattono in Kemal. Zeynep è fuori pericolo. Kemal, determinato a scoprire la verità sull'omicidio di Ozan, contatta la polizia con l'intenzione di far arrestare sua sorella Zeynep. Tuttavia, durante la conversazione, emergono dubbi sulla reale colpevolezza di Zeynep, portando Kemal a riconsiderare le sue azioni. Vildan, leggendo una lettera lasciata da Zeynep, scopre le motivazioni che hanno spinto la ragazza alla fuga, tra cui la confessione dell'omicidio di Ozan. Questa rivelazione sconvolge Vildan, che si trova a dover affrontare una verità dolorosa sulla propria famiglia. Zeynep si trova in una situazione di pericolo imminente. Nel frattempo, Nihan decide di presentarsi alla polizia per raccontare tutto ciò che sa. Dall'analisi della pistola utilizzata nell'omicidio, emerge che le impronte appartengono a Vildan, complicando ulteriormente la situazione. Emir scopre che l'incidente automobilistico di Nihan non è stato casuale. Qualcuno ha manomesso i freni della sua auto. Decide quindi di incaricare Tufan di indagare sull'accaduto, determinato a scoprire chi ha attentato alla vita di Nihan. Akan propone a Zeynep di sposarlo, promettendole protezione contro le minacce di Emir. Nonostante accetti la proposta, Zeynep mantiene un atteggiamento ambiguo, lasciando intendere che potrebbe avere altri piani o dubbi riguardo al matrimonio. Se vorresti il continuo della storia, scrivi sì nei commenti.